Il sax, un brano solamente suonato, eseguito dal nostro sassofonista, Antonio, che è già andato a prepararsi, è una polca, una mazzurga, un bambino, un brano, diciamo, per sax, quindi Antonio lo eseguerà, credo lo voglia dedicare alla sua famiglia, a casa, ai bambini che lo stanno seguendo. Benissimo allora, l'orchestra gli Z, nel brano Dai la lupa, eseguita dal saxofono da Antonio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.